Solidarietà a Natale. Per assicurare un momento di festa alle persone più bisognose si attivano le iniziative in città grazie ad alcune associazioni di volontariato come la comunità di Sant'Egidio a San Giovanni a Teduccio, Ponticelli e Scampia, il centro, la tenda alla sanità e la mensa francescana in piazza del Gesù che hanno il sostegno della Col di Retti. Anche quest'anno la Camera di Commercio ha promosso il tradizionale pranzo di Natale nella Galleria Principe di Napoli col supporto dell'Associazione Amici della Galleria e di 200 volontari che hanno servito alle lunghe tavolate dove erano attesi un migliaio di commensali, stranieri e italiani. La Camera di Commercio anche quest'anno ha inteso rinnovare una serie di iniziative di solidarietà a favore dei più bisognosi. Il numero sempre crescente di partecipanti a questo pranzo della vigilia di Natale è come dire lo specchio di una situazione economica difficile e complicata e quanto più difficile e complicata è la situazione economica più il mondo delle imprese deve dimostrarsi solidale. Secondo i dati Istat nel 2011 l'11% delle famiglie italiane è sotto la soglia di povertà relativa con valori ben più elevati nel mezzogiorno dove ad esempio il fenomeno riguarda un anziano su quattro. La situazione si inasprisce nel 2012. Secondo la Caritas il numero di persone accolte nei centri d'ascolto mostra nel primo semestre 2012 un incremento del 33% rispetto al 2011. Dobbiamo fare di tutto per creare luoghi di assistenza e di vicinanza. Non è un caso che noi stiamo trovando immobili e stiamo destinando sempre di più immobili ai nuovi poveri. luoghi in cui mangiare, in cui dormire, in cui ricevere assistenza. Noi lo facciamo però in modo veramente convinto perché siamo certi che nei momenti di crisi dobbiamo stare soprattutto vicino a chi maggiormente soffre. Insomma invece di preoccuparci del lusso e di chi ha già tanto preoccupiamoci di chi è in difficoltà.